Situazione paradossale al cimitero di Andria dove a causa di un errore si è verificato uno scambio di salme e adesso le spoglie mortali di una donna riposano con quelle di un altro uomo che non era suo marito. Ma sentiamo i particolari. La conferma che aspettavano è arrivata. Lo scambio di salme c'era stato davvero, altro che frutto della fantasia. Eccola la cassa che non era mai stata aperta. Avessero cominciato da questa le operazioni di esumazione nel Camposette, forse ora le persone che vedete saprebbero dove portare fiori ai propri cari. Adesso c'è chi piange sui resti mortali di chi invece non ha mai conosciuto. Una situazione al limite del paradossale avviene al cimitero di Andria. Ce ne eravamo occupati a marzo scorso raccogliendo la denuncia del nipote di una donna, Antonia Rella, morta nel 1984 e le cui ossa, riportate alla luce dopo 20 anni sottoterra, non si sa bene dove siano finite. Purtroppo è l'operato degli uomini ancora vivi che fanno sì che questa vicenda si protraga ancora senza conclusione. A distanza di alcuni mesi, nel giorno dell'ultima esumazione, dal comune ammettono l'errore. Saltando la prima cassa c'è stato evidentemente uno slittamento di bare e dunque nel campo la seconda fossa è diventata la prima e così via. In buona fede ci mancherebbe i familiari che avevano assistito al primo disseppellimento avevano pensato di trovarsi di fronte alla salma giusta ma così non era e adesso la battaglia diventa legale. Abbiamo fatto un verbale nella quale richiediamo una prova del DNA tra i congiunti ancora superstiti e le salme che sono state esumate e poi riposte nuovamente negli ossari per fugare ogni dubbio. La morte è una livella diceva Totò e tutto dunque diventa relativo oltrepassata questa soglia ma adesso qualcuno dovrà pure delle spiegazioni alla figlia che non si dà pace all'idea che la mamma riposi con i vesti di un altro uomo che non era suo marito. Dopo tanti anni mia madre ha trovato l'amante, è andato a letto con l'amante e mio padre è lì che batte i piedi che aspetta la molle, diciamo una battuta di spirito.